I giapponesi hanno sempre imparato la lingua che piaceva a loro, non quella che era più utile, perché loro non hanno mai pensato alle lingue come una roba per cui... Fortunatamente non ne fregava niente, perché sono stati chiusi praticamente sempre. Quindi io conosco veramente tantissime persone che parlano benissimo italiano, ma non sono una parola di inglese. Wow, interessante. Mentre per noi, il giapponese, come per me, ovviamente è la seconda... a parte l'italiano, è la seconda lingua straniera che ho imparato, prima ho imparato l'inglese ovviamente. E te la sei chiamata la domanda, e com'è stato studiare il giapponese? Difficile, basta, possiamo chiudere qui. Ok, allora cambiamo argomento. Ma vado a vivere all'estero. Perché? Perché in Italia c'è qualcosa che non va. Ecco la ricetta per il Volo Lavraccia. Volo Lavraccia si intervista con una preparazione facile, facile. Volo viene sottoposto ad una serie di domande, e l'ha aperto sul lato della mano. Poi viene battuto con un batticarne, specialmente sulla zona delle ali e delle cosce, e stuzzicato con altri quesiti. In questo modo si facilita tutta l'intervista che può venire sia Lavraccia che via podcast. I nostri polli sono allevati in Italia e trattati all'estero, ma tranquilli, sono tutti di categoria... Oh, cazzo! Cazzo, andate a cagare, vaffanculo! Non riesco a dire a fare la categoria! Sono tutti, sono tutti... Poi, va! Ciao, raga! Ma di nuovo, ma dove sono gli altri? Perché ancora malati? Non stanno qui? Oh no! Ma che è successo? È un'epidemia totale questa! All'Espona c'è un'epidemia, man! C'è un'epidemia... Allora facciamo un grosso in bocca al lupo al prof, a Rolfino, per una grandissima guarigione. Speriamo di rivederli presto qui in puntata. Che dire, allora, facciamo questa puntata un po' più intima, visto anche il pollo di oggi, che è un pollo grosso, bello grosso, con quella... Succoso! Esatto, con quella carne prelibata, piena di spezie. Vedremo anche il perché. Perché tu sei pronto, tu sei prontissimo, sei carichissimo. Quindi, come di consuetudine, i fan che non abbiamo ti chiedono perché hai scelto questa magliettina oggi. Perché? Man, più che... Cioè, penso che sia esplicativa già solamente lo stemmo. È scritto Cina, c'è scritto Cina, no? Cina, Cina. C'è scritto Giappone, perché? Mi porti in Giappone, quindi, oggi? Ti porti in Giappone, oggi. Anzi, il pollo ti porta in Giappone, oggi. Ma dove mi hai portato? Dove mi hai portato? A Tokyo? A Chiodo? Dove mi hai portato? Ci andiamo col treno speciale, col supertreno. Col treno proiettile. Esatto, il treno proiettile. Quindi è il numero tre. Numero tre. E chi è? E chi è il difensore della nazionale giapponese? È... Yobby-san, Yobby-san. Yobby, ma sempre tu sei, sei il difensore della nazionale ungherese, giapponese, cinese, sempre tu hai tutte le magliette personalizzate. Ma bando alle ciance, bando alle ciance, se non sono io che presento il pollo del giorno, chi sarà mai? È il nostro caro amico Men. E Men, come di consuetudine, chiama dalla regia la presentazione ufficiale dell'ennesimo episodio di Polleria Italia, che introduce, che introduce questo pollone del giorno. Prego, a te l'onore. Vai, vai, lancia, lancia, regia. Il pollo di oggi è un pollo molto particolare dal sapore orientale. Verrebbe quasi da dire un sushi di pollo. Nasce in Italia e grazie agli anime si innamora subito di quel mondo del sollevante, come me. Decide così in poco tempo di mollare tutto e trasferirsi lì per incontrare Gossi, Goku, Gold, Drake e Ash. Ci dicono che se Ash ha finalmente battuto tutti e diventato il campione del mondo, è anche grazie ai preziosi consigli del nostro pollo. Ma essere sensei del nostro amato Pokémon Trainer non era abbastanza. E così, dopo aver incontrato l'amore della sua vita, decide di inventarsi Turo Operator. Scrittore e addirittura content and creator, con numeri mostruosi da 160K. Insomma, senza ulteriori noci, diamo il benvenuto al pollo di oggi, Tommaso Rossi, conosciuto su YouTube come Tommaso in Giappone! Signori! Ciao Tommaso! Ciao! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Vabbè, sono un appassionato, io ho già biglietti per Luca Comics a fine mese, quindi si parla del Luca Comics ogni settimana, Tommaso, nella chat di Polleria Italia, quello è un argomento proprio... Sono 15 anni che non torno a Luca Comics. Guarda, è diventata... Vabbè, è diventata la fiera più grande in Europa, quindi... Eh, credo... Sì, dopo... Credo che la prima sia ancora il Japan Expo di Parigi, però proprio a tema Comics & Games è la più grossa sicuro. No, a livello di... Io parlavo a livello proprio di grandezza. A livello di grandezza è Luca Comics, perché a livello di aria prende tutta la città. Però, sì, sì, però devo venire una volta, devo venire una volta al Tokyo Comics che... Ah, io non ci vado neanche se mi paghi, guardo ormai, è una roba spaventosa, il Comiket che è allucinante. Wow, lo so, io ho due sogni, Comiket e Comikon a San Diego, quelli sono i miei... No, ma io a Comikon a San Diego non sono stato... Al Comiket di Tokyo è bello, eh, devo essere sincero, però è pesante. Insomma, è una giornata pesante, ecco. Vado tutti gli anni al Tokyo Game Show, eh, perché per il Tokyo Game Show non posso fare a me. Benissimo, vedo che comunque siete caldi. Tommaso, man, se volete continuare a parlare di tutto ciò che stavate parlando, c'è un bar qua sotto, andate sotto e continuiamo. Perché se niente non sei di questo mondo, no? Diciamo un po' meno, ecco, grazie al man mi tengo aggiornato, però comunque sì, il man è molto più aggiornato di me. Detto questo, vedo che sei molto caliente come pollo, quindi diciamo che questo è un sogno che si avvera, the dream come true, perché ogni giorno, ogni due giorni, comunque entro nella tua pagina YouTube, mi vedo un tuo video e quindi tu mi fai un po' di compagnia, specialmente nelle giornate stressate, quando finisco al lavoro tante tasche insieme. Quindi adesso, averti qui e poterti parlare è una cosa assurda, quindi sono felicissimo di questo, ma voglio farti riscaldare ancora di più e come di consuetudine la nostra prima rubrica del giorno è chiamata Shogilingua, dove chiediamo al nostro sommato di ripetere tre volte ciò che leggi là sotto. Ok, in giapponese, bene. Konoko Koni, Tokonatsu, no Konatsu, no Konatsu, no Konimo, no Konimo, no Konatsu, no Konatsu, no Konatsu, no Konatsu, no Konatsu, no Konatsu, no Konimo, per tre volte. Ha senso tutto ciò? È insomma, ha senso? Non ha senso? No, 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 forse sì, però dovrei, per esempio Tokubatsu, ma andrebbe un pochino analizzato, hanno Konimo, no Konimo, dove l'avete trovato questo? Poi ti do la fonte, me l'hanno venduta male, allora, quindi... No, 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 credo, no, no, magari è vero, però insomma, sai, capito, molto spesso i Shogilingua sono anche, come dire, con un senso che va capito, io in questo momento non riesco a capire il senso, non è tanto, anche, sai, il giapponese è un po' particolare. Va bene, anche se non ha senso questo Shogilingua, attendiamo altre due volte, così riscaldiamo bene la voce e introduciamo la prima domanda. A te l'onore. Ancora, Coconimo, Toconazzo, No Coconazzo, No Coconazzo, No Coconazzo, No Coconazzo. Signor, io direi... No, va bene qua, va bene qua, va bene qua, va bene, un applauso, un applauso. Diciamo che comunque la voce di Tommaso è calda, perché comunque Tommaso, davanti a lui c'è sempre la videocamera, quindi va lì e parla sempre. Quindi diciamo così, abbiamo finito la nostra intro, abbiamo finito la nostra premessa, io ti butto lì, ufficialmente, la prima domanda di questo ennesimo episodio di Polleria Italia, in bocca al lupo, grazie per essere qui. Origini, come sei finito in Giappone? Cosa facevi prima di arrivare lì? Chi è il Tommaso prima del Tommaso in Giappone? Quante ore c'ho per rispondere? Due, tre orette, tranquillo. Ma guarda, noi è pomeriggio, noi non abbiamo niente, è che non ti vorremmo far andare a dormire. Allora, guarda, io ho fatto 43 anni a luglio, quindi come tante persone della mia età, o comunque, insomma, intorno, anche non necessariamente a stessa età, sono stati molto influenzati dagli anime giapponesi che sono arrivati tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Io da figlio degli anni 80 l'ho visti tutti, specialmente tutti i filoni robotici. Ora, vabbè, io qui sono pieno di Transformer, qui dietro, però bisognava aprire una parentesi, perché i Transformer sono tra i pochi casi di anime, cartone animato in questo caso perché è americano, che nasce in conseguenza di un giocattolo e non il contrario. Però sono giapponesi, i Transformer erano fatti da Takara. E sono sempre stato appassionato di questi robot, specialmente di Mazinga, anche se il primo contatto che ho, Voltron, anche, mi piaceva molto, Vultus 5, Daltanius, questi, i componibili, quelli che in giapponese si chiamano Gattai. Gattai, che si uniscono. Sì, sì. Si uniscono. Vabbè, insomma, anche altre situazioni, per esempio, no? Mi viene in mente una cosa che dico spesso, che mi ha colpito, che ancora mi ricordo da quando ero piccolo, quelli che si chiamano o i Spokon, che sono gli anime a tema sportivo, no? Spokon vuol dire letteralmente tenacia, sportiva, no? Quindi ho gli Benji, eccetera. E anche quelli slice of life, cioè quelli che fanno vedere poi la vita, che comunque anche i Spokon alla fine fanno vedere la vita. E sai, io, negli anni Ottanta, sai, era la... Giappone era il tempo, e lo è stato fino a 2009, la seconda economia del mondo, quindi si sapeva tanto, ma si sapeva poco allo stesso motivo. Allora, io mi ricordo il sussidiario, per esempio, no? Degli elementari, in cui c'era scritto che in Giappone c'era una densità di popolazione estremamente alta, che vivono in case piccolissime, io guardavo gli Benji e vedevo che però Olli in casa aveva una stanza in cui aveva solo il bagno. Spokon, 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 ho detto... No, certo, certo. Dico, cavolo, dico, cavolo. Dico, vivono in queste case piccole, però c'è una stanza in cui c'è solo la vasca. Io nel bagno ho il lavandino, il vater, il bidet, il mobile, e questo c'è una vasca sola. Dico, guarda che sono strani, no? È effettivamente così, è vero. Non è che gli anime sono finzione, chiaramente gli anime, quelli che trattano, poi, vabbè, soprannaturali, però quello che si parla di vita normale è quello che mi ha sempre incuriosito. Per esempio, vedevo Mila che mangiava al riso veloce, oppure quelli che pensavo che al tempo fossero delle palline dolci, che in realtà erano i onigiri, era il riso e alghe. Adesso si conosce, no? Adesso si conosce, no? Adesso si, però, sai, anche prima di scoprire... Guarda, ora non ce l'ho di... No, forse c'ho la felpa qui, ti faccio vedere questa cosa, no? La felpa è stata... Una delle... No, questo è Tommaso in Giappone, vabbè, non ce l'ho di. Comunque, uno dei miei... Delle materiale, le merchandise che ho fatto è una felpa, è una maglietta che ho scritto Suzuku, che vuol dire continua, che era quello che ce l'ha scritto in fondo a ogni puntata di ogni animi che vedevo, tranne alla fine che ce l'ha scritto Owari, che vuol dire fine, ma quella scritta lì che vedevamo tutti, avrò scoperto a 12-13 anni quello che voleva dire, no? 5-6. Potevo ipotizzare che volesse dire continuo. Quindi, per farla breve, tutta la mia vita è stata estremamente influenzata, soprattutto dal filone robotico e da quello che vedevo negli animi. Tant'è che, quando avevo 4-5 anni c'era, insomma, figlio del miglior amico del mio babbo che aveva questo Goldrick altro 70 centimetri che mi colpì, però poi, sai, ora ognuno ci legge quello che vuole, comunque fatto sta che mia figlia è nata il 5 ottobre del 2015 a 40 anni esatti dalla messa in onda di Goldrick e di Girobo d'acciaio tra le varie cose. Wow, assurdo. Dillo che avevi fatto tutto e hai preso gli outpunti. Esatto, esatto. Ma, hai capito? Quindi, cioè, io spesso dico che quella scelta lì poi non ha influenzato solamente la mia vita perché poi con l'attività che faccio sono persone che sono conosciute, sposate, eccetera. Quindi pensate a quanto un hobby così insignificante per la maggior parte delle persone perché negli anni 90 se dicevo che leggevo i manga dovevo stare zitto, mi prendevano tutti in giro, no? Sì, faccio. Guarda, ancora quando ancora quando ero tineggere... No, adesso no. Adesso diventavo mestri. Però quando ero ancora tineggere io quindi quando avevo ancora 15-16 anni io ancora era soltanto da nerd sfigati per virgolette. Sì, sì. Sì, sì. quando il tuo cervello ha fatto un click e lì hai detto basta io vado lì. Quindi è come sei arrivato in Giappone nel senso hai iniziato a navigare a fare un collector di information ma poi che hai fatto? Sei arrivato lì? Come? Come? No, ma più che altro e quei tempi penso che non era non è che ci stava sul web tutte queste informazioni come adesso. Quindi è stato pure cioè hai preso un treno il treno il super treno e sei arrivato lì? Si parla di allora io volevo venire da una vita cioè il Giappone che avrei voluto vedere era quello degli anni 90 in realtà tant'è che nel 97 98 più o meno in quei anni lì andai in un'agenzia della mia città complice anche che il negozio di viaggio che frequentavo il padrone e altri il proprietario il proprietario e altri due che frequentavano il negozio se fecero nel 98 99 adesso il 98 mi pare 15 giorni in Giappone spessero una valanga di soldi perché io andai a fare questo preventivo e insomma si parlava di intorno a 14 15 milioni di lire a testa senza poi avere niente di come dire di pranzi cene e soprattutto di extra quindi sostanzialmente era un viaggio che poi si si manifestavano insomma circa 20 milioni di lire che insomma sono anche se non sono allo stesso potere forse anche di più di 20 mila euro di oggi nonostante 20 mila euro siano 40 milioni 20 milioni erano tanti si comprava si comprava un utilitario e mezzo con 20 milioni quindi insomma prima di poter l'euro è dovuto arrivare l'euro che ci ha fatto percepire tutto meno caro perché l'euro ha di fatto sostanzialmente in Italia raddoppiato un po' la vita di tutti quanti la ficella comunque non tanto all'inizio ora però magari all'inizio era poco preciso magari un po' dopo questa conversione è sempre più dilatata aggiornando sempre in eccesso e quindi intorno al 2005 e 2006 ho cominciato a prendere informazioni definitivamente su quello che potevo andare perché io tra l'altro avevo fatto tanti viaggi in Europa avevo vissuto un po' in Inghilterra però non avevo mai fatto nessun viaggio intercontinentale perché per me erano soldi sprecati alla vera meta intercontinentale che voleva essere il Giappone allora alla fine nel 2007 all'alba di internet perché vabbè internet io ce l'avevo dal 1997 in casa ho sempre avuto di fatto come un classico nerd eh no vabbè ma serviva anche a mio babbo con la scusa che serviva a lui poi questi monitor all'inizio 24 24 28 28 56 gap insomma che c'è qualcuno della metà sono cose che capisce quindi è partito con il Commodore 64 io da quello sono partito il Commodore 64 poi aveva anche il PC 128 però vabbè era un computer dell'Olivetti che era un rebrand di un protest poi vabbè e poi vabbè la mia vera passione poi sono diventati i videogiochi nell'88 ma hanno regalato il primo Nintendo adesso io ho ho un file Excel in cui segno tutte le console perché se no non posso ricordarmi perché sono più di 80 sono quindi qualcuna che in tripla quadrupla copia insomma quindi ecco diciamo che poi quando internet già era diffuso perché 2006-07 internet era comunque diffuso però non c'era cioè YouTube era nato da un paio d'anni ma era la YouTube di ci guarda i video musicali qualcuno ci è posto lo slideshow fatto con Windows Movie Maker con le foto della vacanza a Maiocca lo facevamo tutti lo facevamo con le immagini che scemavano di ursi con il Kenbans capito il Kenbans brutto capito una roba fortissima avarissima si al tempo sembra di far chissà quale roba capito tra l'altro del primo viaggio in Giappone c'ho lo slideshow c'ho anche di quello però ecco dopo c'era un gruppo insomma uno su internet siamo e quindi con sei i miei amici di Arezzo e altre persone siamo venuti in Giappone e io ho capito un po' lì quando quando sono tornato beh come potevo come potevo tornare senza pagare allora lì quella è stata la molla però io sai poi nel frattempo mi ero regalato in giurisprudenza i miei volevano che il mio babbo è medico un po' in vista quindi aveva volevano che facessi un lavoro normale tra virgolette l'avvocato il giudice avevo fondato il sito che ancora esiste che è il contenitore della vera attività poi alla fine che è dondacare.it in cui proviamo i viaggi adesso con Blue Air Travel quando è cominciato si tratta di 2008 questo è il sito è andato online questa qui è l'ultima versione è andato online il 27 agosto del 2008 alle 10 e mezzo di sera sai quelle cose tipo è un po' una storia tipo nel garage della Apple esatto la Apple poi è diventata un po' più grande adesso l'ho messo online vediamo quante persone sono online zero non c'era nessuno ovviamente perché non era e poi comunque poi è diventata importante e niente poi dopo però terremoto e Fukushima abbiamo fatto diversi viaggi nel 2010 però poi 2011 voleva venire più nessuno in Giappone dopo quello che era successo la centrale nucleare e allora già prima avevo cominciato a lavorare con la mia società poi ho lavorato per un'azienda farmaceutica ho fatto uno stage della Camera di Commercio in Giappone ho lavorato per un'azienda farmaceutica fino a che nel 2015 quando poi l'attività è diventata grande ho sommesso tutto quanto quello che facevo e ho cominciato a fare solamente i viaggi in Giappone visto che siamo qua sulla pagina ci racconti un attimo del appunto di questi tour cioè come funziona perché poi questo è il tuo lavoro principale come funzionano i tour di Tommaso in Giappone cioè questi tour sono organizzati da Blueberry Travel con Martio Giappotour che promuovo io e partecipo all'organizzazione insieme a Marco Togna e ad Andrea Secco e ne facciamo circa questa non mi pare che siano 65 se non sbaglio una settantina di tour a 20 persone l'uno io ne accompagno 8-9 l'anno è sempre meno perché sono vecchio ormai sono stanco mi stanco perché comunque si cammina tanto perché sono tour che sai non sono quei tour organizzati comodi con le spostamenti abbiamo anche un paio di di tour più comodi magari per una clientela un pochino non voglio dire la coletà però che necessita magari che vuole comunque un tour più rilassato meno meno serrato come facciamo noi perché ci spostiamo con i mezzi pubblici quindi vediamo tutto quello che c'è nel mezzo si cammina ogni giorno e abbiamo diversi diversi itinerari c'è un accompagnatore che posso essere io oppure qualcun altro sono circa 16 accompagnatori se non sbaglio ci sono tour di tutte le tipologie diciamo a seconda che magari sei più giovane quindi hai come dire più focus su su certe certe attività alcuni più votati verso la storia alcuni più votati verso il pop quindi anime manga videogiochi eccetera e sostanzialmente hanno molto successo perché e sai perché questo qui è una cosa sempre ricollegandomi a quello che abbiamo parlato prima ho cominciato a organizzare viaggi di gruppo in Giappone perché la maggiore difficoltà non adesso perché adesso sai poi Giappone è diventato mainstream o comunque è un paese che interessa più persone ma 10-15 anni fa quando era un paese di nicchia vuoi perché tutti pensavano fosse carissimo vuoi per x mila motivi perché tutti magari preferivano il viaggio è caro no? no ora no c'è il il viaggio sì ma poi ti renderai conto che quando vieni qua poi non non è caro si spende poco c'è per tutte le tasche mettiamola così comunque no questa è una è una cosa importante che 15 anni fa quando era quando il viaggio in America era il vero viaggio intercontinentale no? mettiamola così per il mondo occidentale tante persone che volevano venire in Giappone erano da sole e il fatto di poter essere inserite anche da sole in un gruppo di persone con i quali potevano con le quali potevano immediatamente condividere live no? prima dei social poi al tempo i social già c'erano abbiamo fatto un video con il mio amico Marco Rondoni con cui abbiamo cominciato a fare questi viaggi no? del fatto che è vero che il viaggio organizzato costa di più non ci ho bisogno di dirvelo io che costa di più per tanti motivi ma dà la possibilità e dava la possibilità dava e dà la possibilità di condividere con persone che molto probabilmente hanno i tuoi stessi interessi immediatamente no? senza come dire senza postare la foto sui social per farti commentare da qualcuno che ha lo stesso magari trovi 20 persone in un gruppo che hanno i tuoi stessi hobby quindi dalla mattina che vai a letto puoi parlare di quello che ti piace senza che nessuno ti giudichi come dicevamo prima negli anni 90 come una persona strana un nerd sfigato e via perché poi tra l'altro ora questo che è un po' non è che voglio dire che è una rivincita ma il bello di quello che poi è accaduto è che tante persone che mi prendevano in giro adesso sono peggio di me cioè nel senso hanno scoperto lobby semplicemente con 15 anni di ritardo ma ora ora che ce l'hanno no? perché sai la pandemia poi ha anche accelerato tanti processi di Netflix per esempio mio amico la settimana scorsa mi ha detto diciamo mi sono messo a vedere il film dello studio Ghibli che mi dicevi 20 anni fa però effettivamente sono belli e dico cavolo non è che te lo dicevo perché ero brutti te li consigliavo perché ero belli che facevano schifo ovviamente ma mi ha detto poco studio Ghibli no sì però ho capito è sempre è sempre lo stesso mi pare che l'anno scorso dice ho visto Evangelion poi mi sono messo ma non ho capito niente dico vabbè quello è normale che non ci capisce niente di Evangelion ho messo a guardare anche One Piece però vabbè le One Piece e sono al numero 100 hanno fatto 2000 puntate vuol dire che un po' di successo ce l'ha avuto no? vedi questa maglietta del Giappone che è quella lì poi che comunque hanno fatto il mondiale quella sui numeri che hanno tutte le icone di One Piece ah ok che è un aspetto ma che anno era? che anno era? il 2000 no quest'anno l'anno scorso quest'anno l'anno scorso hanno fatto tutte magliette a tema anime manga super fighe ma non solamente nei numeri se ricordo tutta la maglietta anche tutta hanno fatto una uguale a Holy e Benji ritornata sì ce n'era una bellissima bellissima ora c'entra non c'entra con il mondiale però tempo fa è venuto tempo fa qualche settimana fa un paio di un mese due fa è venuto il Bayer Monaco in turnè in Giappone e avevano aperto questo Temporary Store a Shibuya dove tra l'altro l'aveva aperto anche la Roma a novembre scorso e avevano messo nel cartellone gigantesco in alto Karl-Heinz Schneider e Genzo Wakabayashi e Benji perché loro giocavano nel Bayer Monaco giusto per come penetrazione poi del pop su uno sport sulla vita di tutti i giorni più marketing su quel mercato giapponese per avvicinare il brand Bayer Monaco la curiosità che mi viene è proprio questa quella che vedi là sotto shock culturale quando sei arrivato lì in Giappone cosa ti ha colpito di più del Giappone magari se ci vuoi parlare di differenze che ti hanno colpito all'inizio se parla di se va troppo dentro dopo basta ci vuole 47 puntate però e noi siamo qui per questo puntata con Tommaso in Giappone facciamo la rubrica Tommaso in Giappone episodio 1 allora dai quello quello che dico io è che allora la prima cosa che ti colpisce di questo paese appena arrivi come turista perché poi ripeto io essendo come dire innamorato tutto quanto però ecco devo essere anche critico di un posto così che comunque ha dei problemi specialmente quando ci vivi però ecco quello che mi colpì fu il fatto che pulivano anche dove era pulito ok e poi per certi versi ovviamente non in mezzo all'incrocio di Cibuia però il silenzio il silenzio il silenzio anche in posti relativamente cioè relativamente affollati quindi molto affollati o molto affollati comunque sia c'è silenzio guarda e non il casino che ti aspetti sul discorso silenzio treno metropolitana sento la stessa cosa qui a Budapest specialmente in metro no fidati i primi mesi che vivevo qui io vengo dalla Sicilia un posto dove il tuo vicino di casa parla ad alta voce con l'altro vicino e tu senti anche da me lo fanno anche in Toscana che ha mangiato la lasagna tipo lo scorso weekend quindi già lo senti invece lì tutti con le auricolari tutti in silenzio pure il bambino inizia a piangere la mamma una cosa assurda silenzio organizzazione regole regole ecco qui sono tante le regole sono veramente tante quello lì beh io nel senso sono fondamentalmente nella mia mente sono un po' militare quindi per me non è un problema rispettare le regole stare in un paese pieno di regole assolutamente anche quando le regole spesso hanno poco senso diciamo che lo shock culturale più profondo che uno straniero ha ma questo non lo capisci subito ci vuole o qualcuno che te lo fa te lo fa notare o ci vuole è un po' che la logica del giapponese la logica di questo paese delle persone giapponesi intendevo è completamente diversa dalla nostra quindi c'è una rigidità spesso e una di conseguenza una poca elasticità mentale che spesso rasenta l'inverosimile quindi spesso ti devi scontrare con delle situazioni pese che dici cavolo abbiamo un sacco di tempo per niente stai qui per esempio vi dico questa qua sono andato a vedere il Gundam mi sono arrabbiato mi sono incazzato si può dire avevo pagato 3.000 passa ien per salire in questa struttura quello che si muove non so se l'avete mai visto qualche salgo sopra e avevano fatto sta roba scandalosa per la quale a parte che io ero il primo e sì ero il primo in fila poi mi ero messo il primo perché pensavo nella mia logica che il primo dovesse andare in cima invece no nella loro logica il primo deve andare nella parte più bella che per loro era dove si idea al movimento che era al secondo piano scusa al piano inferiore a quello in cui volevo andare io poi avevano fatto avevano fatto questa cosa per la quale bisognava fare tipo il giro e quando col cronometro c'era uno che cronometrava 35 se mi ricordo 40 secondi e allora dopo 40 secondi bisognava scradd un posto e quelli quelli di dietro scusate quelli davanti dovevano accovacciarsi per far vedere e quelli di dietro e dopo 40 secondi mi rialzavo insomma io alla fine non ho visto un cazzo se la merito non ho visto niente non ho visto un cazzo e mi e mi e mi e mi e mi e mi sono incazzato con una iera con questo qui sotto perché dico questo sistema non ha non ha senso cioè io è uscito l'italiano che è in te ecco le riunioni che avranno fatto per concepire sta stronzata ok che non no è vero ma lì mi sono arrabbiato veramente che probabilmente funziona finché ci vanno non so sette persone no quando ce ne sono dodici è chiaro che non si vede niente allora lì veramente mi sono arrabbiato però ora questo questo è è un esempio però spesso si impiccano capito su delle su delle procedure che sono la loro forza questo bisogna dirlo cioè per esempio nella nella risoluzione del problema codificato ok quando succede qualcosa che sai che sarà successo o qualcuno ha previsto già che lo che che succeda sono veramente di un'efficienza disarmante no il problema nasce quando bisogna improvvisare no cioè noi un problema che nessuno si aspettava esatto noi abbiamo questa grande grande facoltà di buttarci no magari in maniera sbagliata però però lo facciamo esatto esatto si rimangono paralizzati di fronte all'incognita infatti guarda anche lì anche lì a Budapest è la stessa identica cosa secondo me l'italiano medio ha la flessibilità mentale di sapersi adattare al problema e risolverlo quello che non vedo che comunque in molti lavorando in multinazionale si è a contatto con tantissime altre persone Kazakistan India Vietnam una collega in Vietnam il problema è che c'è un errore si bloccano invece l'italiano c'è l'errore magari ci prova ne crea niente magari sbagliato esatto ma secondo me secondo me è proprio connesso al fatto che l'italiano in generale è molto più disorganizzato quindi noi siamo abituati che l'errore si crea e quindi che lo dobbiamo trovare invece il giapponese è più organizzato ha meno errori e quindi è meno abituato a questa cosa noi nasciamo nel concetto che comunque l'Italia è piena di errori e quindi dobbiamo adottare male dobbiamo fare in qualche modo qualcosa andrà male molto probabilmente di default se qualcosa può andare male andrà male non era quello il modo di dire esatto è la legge di Murphy il nostro Tommaso comunque ci ha inserito un altro concetto che entra con quest'altra domanda e vorrei che magari la esponessi tu al nostro polvo abbiamo parlato della differenza giapponesi italiani ma come sono i giapponesi nei confronti degli stranieri e più in particolare degli italiani visto che Steli allora guarda è un rapporto un po' particolare diciamo nel senso che dovete tenere presente che il Giappone è stato un paese chiuso verso l'estero fino a 1868 il periodo si chiama Sakoku vuol dire paese blindato è durato durante il periodo anche prima però insomma durante il periodo Tokugawa ha proprio raggiunto vette importanti anche di persecuzioni verso i missionari portoghesi insomma quindi non poteva entrare nessuno alla fine e questo potete vederlo anche questa cosa dell'apertura verso occidente insomma per chi ha visto l'ultimo dei samurai insomma è una questione che viene trattata da quel momento in poi sono cominciati ad arrivare i stranieri il primo straniero che è arrivato in Giappone uno dei primi se non il primo è stato Edoardo Chiossone che venne invitato dal governo giapponese per produrre Franco Bolli e carta moneta ed è morto a Tokyo all'inizio del 900 non mi ricordo la data precisa tipo 1901 o 2 una roba del genere è sepolto qui a Tokyo ora non c'entra niente con quello che devo dire però ormai avevo introdotto Chiossone e mi piaceva è importante il professor Chiossone è una persona molto importante sia nei rapporti tra l'altro c'è il museo Chiossone è il credo sia la più grande raccolta in occidente in Europa di opere giapponesi perché è stato molto buono chiusa la parentesi su Edoardo Chiossone ricollegandomi al fatto che è stato uno dei primi stranieri eccetera gli stranieri tuttora specie perché poi si comportano spesso anche in maniera completamente diversa a volte sono un po' più rumorosi e tutto quanto soprattutto in treno che magari sono abituati a parlare invece i giapponesi tutti zitti oppure sono un po' più allergici a stare in fila a rispettare certe situazioni non voglio fare tutte però è oggettivo insomma bisogna dire le cose come stanno se mettete una diversità culturale nonostante il tempo in cui viviamo sostanzialmente profonda ci mettete sopra che fino al 1868 non avevamo visto uno straniero entravano pochissimi stranieri viene fuori che il rapporto con gli stranieri è un per certe non per tutti però per una fetta la popolazione può essere conflittuale noi abbiamo una grande fortuna che il nostro paese in Giappone oltre ad essere stati alleati che però sai è finita male la cronistica poi insomma è finita perché insomma abbiamo questa siamo famosi nel mondo tuttora speriamo ancora per diverso tempo per tutta una serie di cose tra cui ovviamente la nostra cucina i vestiti il design il lusso esatto i posti belli il sole i monumenti eccetera cosa che piace tantissimo ai giapponesi quindi quando dici quando capiscono o tu gli dici che sei che sei italiano è come se svoltasse un po' ah dici l'Italia bello tutti sanno dire buono tutti buono questo lo sanno dire tutti sono stato sono stata stato in Italia ho visto Venezia Milano Bologna Firenze Taormina Roma Napoli in una settimana sono tantissime persone che sono state in Italia non voglio di che so la maggioranza della popolazione ma specialmente persone dell'età dei miei suoi che sono stati in Italia tipo non so dieci volte credo hanno visitato l'Italia tant'è che per esempio ora mi viene in mente un'altra roba perché questa è successa proprio il periodo d'oro dell'Italia in Giappone e quindi tra gli anni 70 e 80 qui si parla di fine di anni 70 quando praticamente il sindaco di Atami se non sbaglio andò a Sanremo e si rese conto che la costa di Atami assomigliava a quella di Sanremo ovviamente Sanremo anche dal punto di vista architettonico non l'hanno stuprata come hanno fatto con Atami però è vero se le mettete si vede e sono gemellate allora c'è il lido Sanremo c'è questa 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 d'Arsena che sembra veramente una d'Arsena europea la barca Sanremo Sanremo da tutte le parche oppure non so mi viene in mente Alberobello che è gemellata con Shirakawago Kyoto che è gemellata con Firenze Nagoya che è la città della Toyota che è gemellata con Torino quindi ci sono delle delle per esempio la Fiat insomma ci sono insomma tutta una serie di congiunzioni tra il nostro paese e il Giappone che fanno sì che diciamo tra i paesi esteri più apprezzati ci sia sicuramente oltre c'è anche la Francia però l'Italia è sicuramente tra i primi tre posti dei paesi più apprezzati tant'è che siccome qui nessuno parla inglese perché deve parlarlo ora magari sì perché sai alla fine ormai è diventata la lingua del mondo ma i giapponesi hanno sempre imparato la lingua che piaceva loro non quella che era più utile perché loro non hanno mai pensato alle lingue come una roba per cui non ne fregava niente perché sono stati chiusi praticamente sempre quindi io conosco veramente tantissime persone che parlano benissimo italiano ma non sono una parola di inglese interessante mentre per noi il giapponese come per me ovviamente è la seconda a parte l'italiano è la seconda lingua straniera che ho imparato prima ho imparato l'inglese ovviamente e te la sei chiamata la domanda e com'è stato studiare il giapponese difficile basta possiamo ti dire qui ok allora cambiamo argomento no volendo approfondire quello che dico sempre a chi si approccia allo studio della lingua giapponese è che bisogna avere la passione io per esempio non potrei mai imparare non so non voglio dire però non voglio fare razzismo o discriminazione però per esempio mi dovrei appassionare qualcosa di di più di alcuni paesi o arabi o anche asiatici come può essere la cina già la conosco però comunque il cinese è una lingua che anche proprio a orecchio non è che mi entusiasmi molto quindi farei grossa difficoltà a impararlo non potrei imparare una lingua del quale non sono appassionato una lingua del genere di cui non sono appassionato appunto perché un conto imparo lo spagnolo per quanto lo spagnolo non è che basti aggiungere la s in fondo però comunque sia una lingua abbastanza simile all'italiano per tanti non è facile ma anche lo spagnolo però secondo me però comunque sia c'è di assonanza voglio dire ma poi molte parole non è tomodaci amico non c'entrano niente uno con l'altro quindi ho capito che comunque la tua tecnica per imparare una nuova lingua è prima appassionarti della cultura legata a quella lingua e poi di conseguenza studiare la lingua stessa penso al fatto che a tre anni che sto studiando ungherese e non mi entra in testa questo significa che non sono appassionato di nulla quindi no sai io per esempio che ti posso dire io da grande appassionato di musica ho sempre usato come dire il grimaldello delle canzoni per imparare sia l'inglese che il giapponese sono un grande fan dei queen quindi di tutta la musica inglese in generale del Britpop degli anni 90 poi quindi diciamo che se vuoi capire che dico per quanto non è che le canzoni spesso abbiano dei significatoni però poi per dire negli anni 80 e 90 io quando giocavo ai videogiochi se vi giochiano tutti in inglese non c'era mica l'italiano al tempo quindi per forza dovrei sapere due parole in inglese adesso ho diventato talmente pigro che li voglio giocare in italiano ma quando è successo è successo il fratellino di mia moglie che adesso fratellino c'è 18 anni quando l'ho conosciuto otto anni fa lui lui è ungherese vive in germania cioè iniziato a parlare lui parlava inglese perfetto perfetto perché perché lui giocava ai videogiochi ma poi giocando ai videogiochi aveva imparato era perfetto quando lo sentirei parlare solo attraverso i videogiochi assurdi videogiochi poi adesso ci butti dentro Netflix senza far pubblicità nessuno non parirà comunque Netflix Prime Video Disney Plus quello che è te li guardi nella lingua e puoi fare lo stesso anche con il giapponese metti tu vai con il anime anche con gli anime esatto ti metti che ci avete in Italia ora esce l'attacco dei giganti l'attacco dei giganti l'ultima stagione cinghia chinochiose sì ora speriamo che sia l'ultima perché poi non è detto che può essere l'ultima te lo metti in giapponese ci metti sottito in italiano tra parentesi l'attacco dei giganti lo vedo sottitolato o in italiano anche io perché è veramente difficile cioè difficilissimo è proprio complicato ora ho detto l'attacco dei giganti ma era meglio se dicevo qualcos'altro perché è complicatissimo in giapponese l'attacco dei giganti One Piece io lo vedo in giapponese sottitolato e quindi magari uno parte con un po' di infarinitori io per esempio ora qui dietro vedete io ho Ken questo è un Ken fatto da questo signore che è il character design dell'anime che è Masami Suda che è morto due anni fa io il Katakane Kiragana l'ho imparato dalla sigla di Ken cominciando dalla sigla di Ken perché non so se avete mai fatto caso ma nelle versioni originali delle sigle giapponesi a video quando partivano c'erano sotto delle scritte in giapponese quelle scritte in giapponese che sono sotto non sopra dove c'è scritto chi fa produs le scritte sotto è il testo della canzone wow interessante è il testo della canzone interessante quindi se tu sai leggere Hiragana e Katakana sai leggere tutto anche perché nelle canzoni in quei media lì insomma quindi nelle sigle eccetera c'è anche il furigana che sarebbe la traslitterazione in Hiragana quindi in sillabe dei kanji e Hiragana e Katakana si imparano facile i kanji già è più complicato quindi il fatto di saperlo leggere senza sapere come si legge quel kanji è già risultivo ma tu quando sei arrivato in Giappone hai iniziato subito a studiare il giapponese no io ho cominciato a studiare il giapponese prima di andare in Giappone ah ok quindi arrivato lì già lo parlavi quindi no ovviamente pensa di sapere qualcosa non sapevo niente ti parli di lì oh salpro tutte uno ti parla zero e quando ti sei sentito pronto nel senso hai detto ho un buon livello di Giappone dopo che sono andato a scuola no dopo che sono andato a scuola dopo aver studiato due o tre mesi a scuola quindi in Giappone non è che non mi sento pronto neanche ora però nel senso quando poi cominci a inserirti in un certo non voglio di una società però comunque sia un po' nella vita di tutti i giorni e come dire vai oltre a quanti anni hai come stai tutto bene e doveva l'ufficio postale magari dopo riesci a comprendere a parlare di più e imparare sempre di più io poi andavo in posti anche un po' trucidi a bere perché sai quando poi bevi poi le parli tutte le lingue quando ti ubbiai parlo benissimo anche in spagnolo quando vado è vero è vero è come perché io io sono un po' ansioso da sto punto di vista quindi se non è tutto perfetto vado un po' in crisi e invece mi sembra di parlare uno spagnolo guarda veramente potrei fare un'intervista a volte oh figli ti capisco ti capisco facciamo uno speed up dell'interview e lanciamo un'altra domanda mentre che il man legge questa domanda io condivido lo schermo e in teoria molte persone che ci seguono molte persone molti italiani che per ora sono seduti lì sul divano ci stanno seguendo conoscono il Tommaso in Giappone specialmente dal suo canale YouTube sei molto famoso per questo quindi il nostro man ti vuole chiedere no sei come stava dicendo Frankie sei uno dei più famosi italiani cioè alla fine io dagli anni in Giappone conosco te e Marco questi due esatto esatto ti è cambiato il modo di vivere una volta che hai avuto questo exploit in Giappone su YouTube sui social in generale quando hai avuto questo exploit ti è cambiato un po' cioè a livello della gente che ti conosceva ti riconosceva italiani sempre o gente che ti contattava sì quello sì no già qui non mi non mi conosce nessuno ovviamente nel senso sì vabbè il canale in italiano esatto no ma no dai nel senso no dai perché comunque mi è cambiato nel senso che ci sono tante persone ogni giorno questo è vero perché sai quando viene in Giappone è chiaro che è pubblico targettizzato diciamo quindi è chiaro che se si ha fatto due o tre ricerche su internet è plausibile che mi abbia trovato quindi ci sta vedo spesso anche tante persone che mi indicano e poi mi mandano le foto perché si vergognano che mi fa anche più paura a me sta cosa che ti fa le foto e poi mentre sei lì che parli e poi ti mandano le foto scherzi a parte che poi non è tanto scherzo però no non ha cambiato niente diciamo che sei stato ovviamente mi fa piacere mi fa piacere ovviamente incontrare persone che mi seguono eh ormai sei un'icona sei stato uno dei pochi che comunque ha creato quel marketing del positioning ne parlavamo nella puntata precedente un paio di puntate fa con il nostro Son Pascal anche lui è andato in Kazakistan e lì si è creato il tuo il mercato e quindi la stessa cosa con te nel senso alla fine tu sei un centro di informazione cioè qualsiasi persona interessata a quella cultura giapponese entra qui nel tuo nel tuo canale youtube tu share un sacco di informazioni poi vabbè ci sono anche anche gli altri social che sono un po' più capillari perché sono più giornalieri sai youtube è tutto più è una volta la settimana mentre invece tipo non so facebook instagram è una roba più immediata che posso fare tutti i giorni roba da si dirette due tre minuti quattro minuti cinque minuti quello che è ma comunque sia che stavo dicendo mi sono dimenticato adesso perché mi sono distrattato no no mi sono distrattato a vedere quando si tratta uno dei tuoi ultimi video siccome allora te la portava c'è di anni fa no 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 aspetta ho preso ho preso ho ripreso ma mi aveva confuso il video a parte questo qua è chiaro che diciamo che siamo partiti allora uno come quello che dicevo prima senza passione non fai niente neanche neanche in questo campo qua il problema è che magari tanti vedono via la settimana ma poi c'è a parte che c'è tutto il resto che ne faccio uno al giorno sugli altri social ma il punto è che poi quando diventi diventa il lavoro comincia a essere veramente faticoso fare tutto tenere insieme tutto quanto ma c'è sempre la passione però qual è il fatto il fatto è che tante persone non solo non è che sto parlando di persone in Giappone eccetera però ci sono tante persone che come dire fanno i social con l'unico scopo di diventare famose ecco se uno parte con questa prorogativa non diventerà mai famoso non è possibile a meno che tu sei fra di Mercury che dici a wannabe star è chiaro che c'è il talento per farlo quindi quando sei partito con YouTube era più una passione nel senso un hobby inizialmente no era allora io non l'ho mai visto come un hobby perché gli hobby sono cose piacevoli e fare i video e montarlo non è piacevole chi lo fa lo sa c'è Francky che dice hai ragione quelli che dicono che lo fanno per passione sono falsi cioè lo puoi fare per passione quando arrivi a un certo livello in cui c'hai delle soddisfazioni no cioè io faccio questo lavoro con passione perché quello che faccio mi dà la possibilità di girare il mondo incontrare persone eccetera ma quando non ti caga nessuno non è un po' questa è una passione alle due di notte quando guardi c'è tuo figlio che piange tua moglie che si alza e tu messo lì che fai editing alle due di notte devi alzare alle sei devi andare anche a lavorare in multinazione non è passione non è passione è un lavoro è un lavoro sì cioè uno ha la passione di fare qualcosa per poi arrivare però è chiaro che non ci può essere non sono tutte situazioni positive la passione è diversa Tommaso la passione è più legata all'idea all'idea di dare avanti un progetto certo esatto il progetto esatto è un po' il progetto che stiamo portando avanti noi cioè virtualmente andare in giro per il mondo e condividere le storie di giovani talenti tu sei un giovane talento italiano un po' meno però no però dico cioè il punto è proprio questo no che io ho cominciato questi social come un parte organica di un progetto più ampio che era quello dei viaggi in Giappone poi è chiaro che i social ti danno la possibilità di conoscere un sacco di persone di guadagnare di conoscere un sacco di persone di poter fare delle esperienze che altrimenti tu non potresti fare allora lì sì che si accende ancora la voglia di fare però a me tutti quelli che dicono io lo faccio per hobby non è vero chi ti dice che lo fa per hobby vorrebbe diventare famoso ma non ci riesce il punto è quello esatto noi non lo facciamo per hobby ma abbiamo gli hobby perché il nostro per gli hobby lo facciamo per gli hobby il nostro man in realtà si chiama Daniele gli hobby ma detto questo vuoi dare qualche cioè siamo più o meno a quasi alla fine dell'episodio no un consiglio che vuoi dare a Polleria Italia noi siamo un giovane canale su YouTube è nata questa idea l'anno scorso l'abbiamo lo sai quando è nata questa idea di Polleria Italia è nata l'anno scorso durante il matrimonio del nostro man lì eravamo tutti felici e lì com'è che possiamo stare insieme perché poi lui si è trasferito a Lisbona dobbiamo stare insieme insieme sempre e lì è nata l'idea di fare una cosa virtuale insieme quindi la passione è nata lì è finita lì e poi è nato il lavoro vero e proprio un consiglio che vuoi dare a Polleria Italia giovani italiani che se vi piace farlo e ci credete fatelo consapevoli che potrebbe andare bene e potrebbe andare male perché purtroppo adesso i social non sono più ora qui dovrei aprire proprio un discorso con la metafora che faccio sempre ma ormai è come tirare i dadi capito esatto non hai più la possibilità come quando ho cominciato io io avevo video che facevano cagare e che facevano centinaia di migliaia di views perché 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 al tempo a parte l'inflazione nel senso c'erano meno meno persone questo è un dato di fatto però c'era anche una curiosità maggiore adesso il mondo è concentrato sul binge watching dei reel e dei tiktok da 40 secondi è cambiato il mercato e non si può parlare come stiamo parlando adesso in 40 secondi cioè voi magari da questa live che abbiamo fatto insieme potrete tirare fuori 50 pillole da 20 secondi in cui dico tre cazzate c'è la gente che vuole questo e io non posso raccontare il Giappone in 60 secondi infatti uno dei primi episodi una polla ci ha detto che noi siamo vintage perché comunque cerchiamo di portare su youtube conversazioni integrali vere e proprie con il piacere proprio di ascoltare Tommaso il man e il Frankie ma non ti fermi qui perché io intanto ti butto la domanda capitolo scrittura raccontaci del tuo libro sappiamo che hai creato un libro che appena abbiamo visto anche all'interno del tuo sito quindi tu sei un imprenditore tutto tondo raccontaci anche di quest'altro progetto questo qui è nato allora dico sempre questa cosa che potrebbe risultare ai più blasfema mettiamola così la pandemia per me è stata un'occasione gigantesca perché ho avuto la possibilità di focalizzarmi su quello che altrimenti non avrei potuto fare non l'ho capito subito ovviamente perché sai nell'immediato di dover dire che adesso i viaggi smettono come si fa però vabbè io non avevo grande paura perché avevo lavorato tanto negli anni passati quindi non è che avessi grandi quindi quel periodo lì è stato uno dei più belli della mia vita alla fine con tutto rispetto perché ho avuto problemi ho perso il lavoro ho perso persone eccetera però ecco questa è la mia esperienza ovviamente quando ho capito insomma diciamo che 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 stava andando bene cioè nel senso che non eravamo che eravamo ancora vivi stavamo tutti bene eccetera io ho avuto la possibilità di vedere crescere mia figlia tre anni due anni e mezzo insomma mettiamola così siamo stati in casa insieme giocavamo a a Mario Kart tutti i giorni specialmente nei quattro mesi iniziali è stato cioè ora cioè all'inizio io ho anche un po' paura perché sai in Giappone secondo me alcune cose erano sottostimate tutto quanto quindi per farla molto breve ci siamo concentrati per due anni e mezzo su su tutto quello che non avevo sia io che Marco ma io parlo per me adesso che non avevamo che non avevo fatto avevamo non avevo fatto e abbiamo e ho potenziato tutti i social e tutto quanto ho potuto lavorare a tantissime cose per per poi adesso raccoglierne i frutti e una di queste occasioni è stato è stata proprio il libro che inizialmente neanche volevo fare perché sono stato contattato da Rizzoli che ma che mi ha chiesto se volevo fare appunto un libro con loro ma io non so scrivere no ma non ti preoccupare ti diamo un editor che ti dà una mano così e poi dico vabbè se mi dà una mano bene e così è stato scrivere è molto complicato quindi ci vuole per quanto mi riguarda per me quindi era sicuramente necessario qualcuna qualcuno che potesse mettere a posto questo come un video no cioè io io so fare l'editing dei video ma non so fare l'editing del libro quindi io buttavo lì tutto quello che mi veniva scrivendo eccetera e poi l'editor te lo sistemava lo sistemava ah quindi non è stata una videoconversazione è stata più dagli la bozza lui ti taglia la bozza te la sistemi sì è stato un misto a volte abbiamo fatto così a volte altre volte no però sostanzialmente è un libro vero questo qua non è un libro che sai molto spesso capita che uno ci mette il nome e basta esatto questo è un libro vero è comandato sì esatto è andato molto bene da quello che so i dati ne avevano stampati quasi tra i 7 e i 8 mila e sono finiti credo quasi finiti quindi diciamo che nel mercato di adesso voglio dire sì che è la carta in questo io compro ancora libri però so che ormai il cartaggio il libro che vende 5, 6, 7 mila copie e non sei Bruno Vespa è andato bene è andato bene quindi stai preparando il secondo libro no puoi anche sto pensando sto pensando come potrei non voglio diversificare però ampliare quello che faccio a me sai mi piacerebbe parlare a me di tecnologia io vorrei vorrei essere un canale tecnologico oppure di 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 cioè questo io vorrei fare questo guarda ci avevamo anche una domanda su questo quindi io farei allora questa domanda quella che va talmente forte Tommaso va talmente forte come come un treno e da lì c'è la domanda dei cioè che si parla tanto dei super treni giapponesi e di tutte le innovazioni tecnologiche che ha portato il Giappone che ha portato che ha portato che sta portando non lo so io perché sono rimasto indietro e ci parli un attimo di queste innovazioni tecnologiche ecco cosa c'è di diverso a livello tecnologico guarda molto onestamente da persona appassionata di tecnologia eccetera Giappone sostanzialmente è un paese non voglio dire finito perché no però nel senso molto molto ridimensionato rispetto a quello che che era vent'anni fa per esempio venti trent'anni fa o anche quindici anni fa per esempio una cosa di cui ignoravo la conoscenza è una cosa che ho visto un paio di giorni fa negli anni 90 c'erano nei combini c'era Family Mart l'Oson e roba del genere quindi quelli che sono aperti 24 ore su 24 nei terminal no era l'Oson scusate l'Oson nei terminal l'Oppi che ancora ci sono che fanno un po' di tutto potevi scaricare avendo compravi una cartuccia vergine per Super Nintendo e in questo totem potevi scaricare i giochi e metterli dentro con la cassetta uno per volta pagandoli con la carta di credito ecco questo era una roba tecnologicamente forse un paio di decenni avanti rispetto a quello che potevi avere in Europa e in Italia a inizio anni 90 anche io per esempio una cosa che mi colpì la prima volta che sono venuto in Giappone era che ovunque c'erano i rubinetti con la fotocellula è una roba normale adesso però 16 anni fa non è che in Italia fossero così diffusi anche nei centri commerciali tant'è che io ancora quando torno in Italia molto spesso mi trovo che faccio così e l'acqua non esce perché non esce l'acqua perché c'è il rubinetto semplicemente c'è il rubinetto cose che per me sono normali però tu immaginati che venivi qua nell'87 e sta roba già c'era ovunque e funzionava al tempo il Giappone era veramente molto avanti dal punto di vista tecnologico mi ricordo avevi letto un articolo a fine anni 90 prima anni 2000 che diceva che mediamente il Giappone era avanti 8-9 anni rispetto al resto del mondo da questo punto di vista adesso ci sono paesi che l'hanno superato per questo purtroppo è una cosa fisiologica di ogni situazione c'è sempre qualcuno che va più avanti di te quindi adesso Corea e Cina sicuramente nello scacchier sono un po' e anche Singapore no? Singapore è per il finanziario una volta ci costruivano ma ora non ci hanno più prima molte cose erano made in Singapore c'era un po' di produzione adesso invece producono solo soldi virtuali Singapore c'è una produzione forte di soldi virtuali anche qua per esempio se voi prendete qualsiasi dispositivo elettronico elettronica di consumo comprato negli anni 90 prima anni 2000 l'ho girato e c'è scritto made in Japan adesso non costruiscono più niente in Giappone se non qualcosa tipo gli obiettivi Sigma qualche corpo macchina della Canon e qualcos'altro Fuji forse però ecco quello che ancora gli rimane è oggettivo e non è un caso che poi ho detto queste cose anche inconsciamente è il monopolio delle macchine fotografiche questo è oggettivo le macchine fotografiche e i sensori delle macchine fotografiche tra l'altro tutti quelli che compri un iPhone non un Samsung che c'è il sensore che fa Sony quindi punto non c'è nient'altro di questo però a livello tecnologico ormai i Shinkansen per ora proprio ricollegandomi all'inizio i Shinkansen sono dei treni eccezionali c'è poco da fare a quanto arriva? a no ma non no 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 il il suo Shinkansen che ancora non si sa quando forse il 2040 non so una roba del genere che a repulsione magnetica arriverà a 600 km orari collegherà Tokyo e Osaka in circa un'ora ma questo nel 2050 prima a Nagoya deve essere il 2027 a Nagoya ma dubito che sarà così i treni ormai hanno 16 carrozze vanno torna a 300 però sono fantastici è proprio la linea dedicata non ci sono altri treni sopra in attesa che un giorno creeranno il teletrasporto ma detto questo alla Goku detto questo siamo interessati anche a capire il costo della vita in Giappone lo stipendio medio cioè facci capire un attimino dacci un paio di numeri una famiglia media due figli magari due lavoratori papà mamma già è tanto già è tanto un figlio mettiamo un figlio due va bene quindi quanto devo guadagnare io sono il papà quanto devo guadagnare per far stare bene la mia famiglia rapportato in euro perché si è da dire no allora se lo rapportiamo in euro allora questo che è la è la trappola del 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 voler fare la conversione in euro non ha senso vi spiego perché no ok nel 2011 eh 10.000 yen erano ehm 110 mila 110 centocinque 110 euro adesso 10.000 yen sono 60 euro tre anni fa 10.000 yen erano sono stati 80 euro adesso ripeto sono 60 quindi mentre qua sia quattro anni fa che ora lo uno stipendio medio può essere intorno a 260.000 yen cambia totalmente quanto sono in euro specialmente perché qui si parla di eh cifre che passano da eh essere 2.500 euro ad essere 1.700 capisci che è non è una differenza da poco allora quindi da ora in poi mi parlerò solamente ien così almeno ma va bene l'intro della spiegazione va quindi se 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 vedete questo video nel futuro lo vedete eh entro entro 2023 almeno i yen sono quelli allora diciamo che un neolaureato che entra in un'azienda eh come primo stipendio sta intorno a 230 240 200 300 140 mila al mese una persona che qualche anno che lavora sta intorno a 300 se c'è una buona posizione dopo qualche anno 4 500 mila ien magari riprende sì ma quanto paga d'affitto eh questo anche questo qui dipende se abiti a Tokyo dove abiti a Tokyo se abiti a Osaka se abiti a Shimane 500 mila ien presi a Tottori sono una valanga di soldi rispetto di 500 mila ien presi a Tokyo per quanto riguarda l'affitto per quanto riguarda il resto non è che ci sono delle differenze però non è che sostanzialmente sia sì magari ristoranti però qui costa un poco anche quelli in realtà l'assicurazione sanitaria c'è la sicurezza sanitaria bisogna pagare va in base al reddito quindi ma la paga ma la paga il datore di lavoro nel caso in cui sei impiegato lo devi sempre pagare tu come in Germania no no se sei un un lavoratore dipendente la paga il datore di lavoro ok se sei come me un lavoratore autonomo te la devi pagare da solo ma quindi tipo come tipo il sistema americano assicurazioni privata quindi se non paghi no no è l'assicurazione io pago quella dello Stato ok si chiama è obbligatoria non è obbligatoria ma non è obbligatoria perché se non ce l'hai paghi il 100% della prestazione altrimenti paghi il 30% della prestazione e le prestazioni sono costose no diciamo che per le cose semplici no assolutamente c'è 5 punti sotto il mento non mi è mai successo ma credo che per esempio posso dire che ne so facciamo una roba pratica che magari tutti la pulizia dei denti ok 104 euro 5 euro ok parliamo di costi bassissimi 6 euro dai 1000 yen parliamo di costi bassissimi wow c'è la visione che invece in Giappone il Giappone è super costoso in generale non lo so il Giappone era super costoso negli anni 80 e 90 quando la lira non valeva niente in confronto allo yen e il Giappone è costoso quando ci vivi perché oggettivamente mantenere certi standard con una famiglia eccetera è caro quello che non è costoso a venire come turista assolutamente tolto l'aereo e prezzi adesso perché insomma sono i prezzi però comunque sia poi quando vieni qua considera io avevo quando ci siamo sposati io e mia moglie eravamo indecisi fra Giappone e America alla fine siamo andati in America sbagliato sbagliato no più che lei perché io glielo di per favore domani pensavo che mi sarebbe costato molto di più in Giappone ma che l'America è il paese più caro dell'universo ormai prossimo viaggio e guarda se io sto organizzando appunto in un paio d'anni massimo perché mo volevo far crescere il bambino appena nato c'ha 5 mesi appena cresce un attimo il Giappone al 100% wow non è così caro cioè è chiaro chiaramente non è un viaggio non è andare ovvio un weekend alla Dispoli insomma però comunque sia è un viaggio impegnativo però ecco tutte le cose io per esempio la prima volta che sono andato in Giappone il fratello del mio ex ragazzo mi diceva in Giappone del mio ex ragazzo dove vai in Giappone lì costa tutto tanto poi torno e dico magari io andavo karaoke tutta la notte con 20 euro cioè un ramen mi costa 6 euro perché al tempo era più debole di ora lo yen sull'euro e non ci credeva dice no dico ma ci sono stato cioè non è che vuol dire che così cioè lui era convinto che lo stessi prendendo in giro ma era così veramente il Giappone comunque è un paese che da turista per un livello normale costa poco pensa io accompagno tante persone quindi mi viene in mente questa famiglia di Arezzo tra l'altro che ho accompagnato mi sono di Arezzo che ho accompagnato ad agosto famiglia ovviamente di comunque persone che si vedeva che erano benestanti insomma però erano loro con i due figli che erano andati mi hanno detto che erano stati in banca per farsi alzare il plafond della carta di credito il plafond del banco ma preoccupati dal fatto che andassero in vacanza in Giappone e poi io andavo a finanziare mi dicevo ma si spende così poco io pensavo di spendere un sacco di soldi invece non si spende niente certo il loro spendere niente comunque sia non era dovuto al fatto che erano persone che avevano come dire una capacità economica magari che non è da tu non so ora non posso dire no ho capito bene stavano bene stavano ancora più ricchi e non lo davano a vedere però vediamo che stavano bene no però quando tu vai vai fuori bevi tre birre mangi un'ora e spendi 12 euro a testa capisci che spendi poco dai allora il prossimo team building di Polleria Italia sarà in Giappone e Tommaso sarà la nostra guida ufficiale il punto è che ci vuole 1200 euro il punto è quello lì è caro venire e paga l'editore di Polleria Italia questo tutto a carico suo esatto bella bella conversazione perché comunque abbiamo parlato di tantissimi temi visto anche l'orario perché da te Tommaso ormai siamo oltre l'uno e venti l'uno e venti quindi non ti vogliamo tenere tanto esatto noi ci avviamo verso la fine della puntata dove ci sono sempre le le ultime due domande che facciamo su ogni episodio quindi racchiudono un attimino l'essenza di questo podcast ma prima di passare alle due domande noi chiediamo un piccolo favore pensavo che l'avete saltato non la posso lasciare non perché io Tommaso se no è da paraculo scusa il termine poi lo taglio però c'è Tommaso Tommaso deve anche supportare il progetto il progetto è questo Tommaso tu sei stato sei ancora qui ospite a Polleria Italia hai capito l'essenza di questo podcast hai capito che noi virtualmente andiamo in giro per il mondo a raccogliere testimonianze vita reale di tutti gli italiani in giro per il mondo con talento e tu sei un esempio eclatante però sai all'interno di questa categoria c'è la persona con più talento di tutti che 30 anni fa è uscito dall'Italia e ha fatto business il suo nome il suo nome è Rocco e il cognome è Sifredi è quello che chiediamo ad ogni pollo che intervistiamo è un piccolo favore convincere Rocco a venire un giorno ospite in un episodio di Polleria Italia Tommaso io te la butto lì ti cambio anche interfaccia anzi la regia cambia interfaccia è più figo perché significa abbiamo più persone che lavorano per noi Tommaso perché Rocco dovrebbe venire ospite a Polleria Italia perché se gli piacciono le galline per forza deve venire ospite a Polleria Italia signori lui è Tommaso lui è Tommaso non è una stessista però insomma con Rocco le battute ci sta ci sta ma a parte gli scherzi ti ringraziamo per il giochetto che ci hai fornito dieci secondi fa ma noi veramente ci avviamo alla fine della nostra puntata quindi io butto l'ultimo episodio l'ultimo l'ultima anche io sono stanco lo sai Tommaso perché dalle 6 del mattino che mi sono alzato perché c'era mio figlio che ha iniziato a piangere quindi anche lì perdo dei colpi ma tu ne perdi più di me perché hai sonno quindi io ti butto la penultima domanda e chiediamo gentilmente di rispondere col cuore un consiglio che vorresti dare ai tanti italiani che ci seguono se vogliono trasferire all'estero che vogliono dire beh allora io parlo per un paese dove abito ma penso che valga un po' per tutto il mondo ed è consiglio che do che do sempre a tutti ok in seguire il suono tutto quanto però o col paracadute o avendo sempre un piano B senza fare all in perché se poi fateva tutto male quando vivi all'estero specialmente se sei lontano tanto come me può essere come dire devastante tornare senza aver raggiunto l'obiettivo che te li prefisso quindi insomma e poi soprattutto ci sono tante persone che dicono studio faccio eccetera nel mondo di oggi è oggettivo che serve più esperienza che titolo quindi imparate a fare qualcosa e poi per esempio tanti mi dicono adesso vado a fare l'università vanno a fare che studiano giapponese ok però è probabile che tra 3, 4, 5, 6 anni forse meno non lo so magari 10 eccetera sapere una lingua purtroppo non sarà più uno skill perché basterà mettersi in auricolari di Google o di Apple e io parlo in italiano quello sente in indonesiano quello accanto sente in giapponese quindi niente anche se poi nella lingua c'è soprattutto non parlo per me nella lingua giapponese c'è nascosta la società però ecco questa cosa di quando uno ha un progetto dice adesso scappo mollo tutto e vado mollo tutto e vado ma non è facile insomma bisogna sempre stare attenti se fai all in sbagli poi dopo soprattutto quando hai più di 30 anni se sei giovane a 20 anni vai sbagli rientri nessuno ti ha detto niente ma 30 35 anni poi magari diventa difficile impara l'arte e mettila da parte si dice me lo diceva sempre mia nonna noi partiamo noi buttiamo fuori l'ultima domanda il nostro manager ci aiuta su questo allora torneresti a vivere in italia? no al momento no sai che me l'aspettavo una cosa del genere Tommaso era scontato è impossibile non si può però però abbiamo avuto anche persone che ci hanno detto di sì sinceramente beh sai una cosa di cui non abbiamo parlato e che secondo me è una discriminante spaventosa nel mondo di oggi è la sicurezza ecco il Giappone è un paese sicuro era fra le domande ma poi siamo però ha risposto il Tommaso è tornato indietro ha letto la domanda esatto è un paese sicuro quindi non che dove abito io dove abitavo dove sta di mia ancora non sia però ecco qui siamo veramente su un altro livello e poi magari se non vorrei sembrare snob che me la tira eccetera però dopo tanti anni in una realtà come Tokyo diventa difficile per il momento poi magari tra qualche anno basta magari in pensione e voglio tornare nella provincia dove oggettivamente io per esempio sono stato in Sardegna all'inizio settembre sono tornato all'Italia bella che io voglio dire all'Italia ha tanti problemi nel senso se 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 quello che ho qui in Italia viverei in Italia anch'io non è che e magari ti rivedremo fra un paio d'anni come Tommaso a Cagliari Tommaso a Pallena Tommaso a Cagliari in Sardegna no è stato bello tornare a me piace sempre tornare poi io non è che sono assolutamente legato agli amici alla famiglia al posto in cui sono nato e cresciuto al momento diciamo che qui a Tokyo ho tutto quello che mi piace quindi però ecco tra i problemi del vivere in Giappone c'è sostanzialmente il rapporto sociale rapporti sociali che sono freddi come invece non lo sono in Italia non è solamente un discorso di come dire conoscenza intergenerazionale attraverso gli anni cioè per esempio discorsi che stiamo facendo noi magari è vero che è un podcast e quindi sono qua per questo però non so se tanti giapponesi parlerebbero così a cuore aperto di quelle persone assolutamente no esatto tra persone che non sono mai viste per persone che non vedranno mai tra l'altro cioè per non voi ma quelli che poi seguono ma qui siamo tutti italiani a parte il man per un terzo è giapponese perché il suo Chris nonno era giapponese alla fine questo è il gusto cioè riuscire a parlare la stessa lingua sì però capito è proprio quello lì il punto il punto focale quello lì ed è quello che ci invidiano a noi spesso entriamo molto come dire più velocemente in confidenza di quanto i giapponesi riescono a fare in una vita esatto noi abbiamo parlato esatto noi abbiamo parlato solamente tramite mail qualche messaggio Tommaso non ci siamo mai visti prima io ti ho visto prima noi ti abbiamo visto prima tramite il tuo canale però tu non conoscevi noi ma alla fine dopo un'oretta sembra che ci conosciamo da una vita quindi andiamo a fare una birra adesso e allora Tommaso è dato che ci conosciamo da una vita una normale un normale episodio dovrebbe finire qui invece per te abbiamo preparato cinque minuti un piccolo qui suone il quizzone è creato per mettere in imbarazzo il pollo del giorno perché si sa i polli imbarazzati sono i più buoni è un'ottima occasione per mettere allo spiedo il nostro pollo il pollo così diventa più delicato nella cottura e saporito al gusto grazie a una serie di spezie che abbiamo preparato c'è che buono questo pollo allora il quizzone è un gioco quizzone è fatto da tre domande dovrai rispondere correttamente a due su tre e cosa vinci? vinci un pollo quindi ti spediamo un pollo con le patate e quindi noi dal canto nostro e dalla regia speriamo che tu perdi perché in teoria i costi di spedizione in Giappone sono molto molto alti perché lo facciamo perché ti abbiamo cotto tutta la puntata con le nostre domande adesso è la parte in cui noi mettiamo le spezie e quindi prepariamo il nostro pollo e poi a fine puntata lo mangiamo con le patate quindi io direi di far partire il men con la prima domanda ufficiale del nostro quizzone di oggi vai men quando sono nati i primi manga a metà dell'ottocento le prime le prime situazioni che sono in cui si vengono del manga è troppo preparato ho sbagliato io faccio domande troppo semplici scusate vai con la prima risposta legge la prima risposta i manga erano le gine antichissime infatti alcuni di essi compaiono già nel diciottesimo secolo quindi nel 1700 sviluppandosi definitivamente nel diciannovesimo secolo soprattutto nel periodo Taiosh 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 grazie quando l'artista l'ha scritta Tommaso la risposta mi hai caduto da te con io ufficialmente questa parola combinando gli ideogrammi man immagine buffa immagine stravagante aga vediamo ma quindi il mio soprannoma è man no man 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 ma si scrive man ma ma si siamo a parte a parte il gioco di man e man e diciamo Tommaso 1 Polleria Italia 0 andiamo con la seconda allora man senza perdere tempo perché il Tommaso qui deve andare a dormire nel Giappone ci sono tre tipi di inchini sapresti dirci quali? cioè la fai Tommaso no no a parte che non li so ma ci sono no ci sono i gradi ci sono eh 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 a seconda diciamo di nome eh il nome non li so comunque è 90 45 15 dovrebbe essere una roba del genere cioè quello quello a 90 gradi è quello che fanno quando fa conto anche ah no forse anche a volte più di 90 addirittura no quando fanno le grandi esibizioni le grandi scuse i nomi non li so è per tenere in suspense le persone che ci stanno seguendo noi ti diciamo ufficialmente che questa domanda non l'hai presa quindi andiamo con la risposta cioè le 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 15 gradi usato per saluti informali e per congratularsi il key ray di 30 gradi riserviati a chi si trova a un gradino più alto di te nella scala sociale come il proprio capo il sai key ray un menchino di 45 gradi usato di fronte a personalità come imperatore ce ne sono c'è anche c'è anche più di 45 gradi comunque sì è vero noi ti salutiamo a 47 gradi allora così con la puntata poi vediamo i gradi decidiamo i gradi allora andiamo con l'ultima domanda del nostro quizone dato che Tommaso sta a uno ma anche Poleria Italia quindi questa è la domanda finale che ci sta facendo tremare perché dalla regia si già stanno preparando il pollo quindi vai con l'ultima domanda potresti dirci quando è nato il sushi no è troppo semplice eh il sushi è nato più o meno nel periodo Edo quindi intorno intorno al 1600 però il sushi moderno nasce sostanzialmente 120-130 anni fa più o meno leggiamo la risposta man vai con la risposta secondo me c'ha ragione lui le origini del sushi sono molto incerte e particolari no sì sì no no questo è vero sì no è vero per la conservazione del pesce è vero nel quarto secolo probabilmente sarà un quarto nasce infatti già poi nel quarto secolo per conservare il pesce fresco veniva pescato e viscerato e conservato con riso e sale in modo da poterlo conservare il più a lungo possibile senza temere muffe e patogeni per stoccarlo e trasportarlo al momento dell'utilizzo si eliminava il riso e solo successivamente si inizia a consumare il riso fermentato insieme al pesce sì ma questo qua è quello che si chiama che tuttora fanno che si chiama narizushi che è una roba è una roba scandalosa alla fine non si può mangiare no questo qui ci stava ci stava che fosse quello lì sai poi diciamo che vabbè ok ve la passo ma non era messa bene diciamo che mettiamola così ex eco ex eco dai esatto parlando tramite la magliettina del me questa è stata l'andata l'abbiamo pareggiata ci sarà nella seconda stagione di bolleria Italia Tomasi in Giappone secondo episodio e lì faremo la finale quindi questo hai capito potevi dire il sushi dipende che tipo di sushi capito però è vero che la cosa di conservazione dicevi lo fanno ancora questa cosa? sì c'è un tipo di sushi che si chiama nare sushi che praticamente prendi prendi un barile ci metti uno strato di riso uno strato di pesce ci va un pesce particolare di cui non ricordo il nome adesso e poi lo metti chiudi sto barile lo tieni lì un anno e tiri fuori sta roba e sai Zim conoscete orrori orrori da gustare di Zim ah sì 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 lui ha detto questa è la cosa più schifosa che abbia mangiato in vita mia e voglio dire bellissimo lui di roba di roba di roba strana non aveva mangiato tante io non l'ho mai mangiato a nare sushi però è molto prezioso costoso praticamente quando poi apri questo questo barile il riso viene scartato il riso non è commestibile perché è male dopo che l'hanno pulito affetta il nostro pesce lo mangi ma capirai dopo un anno che fermenta in mezzo al riso eccetera c'è un po' acidi un po' tremendo e fino all'ultimo il nostro Tommaso ci regala delle chicche che utilizzeremo per i nostri rilli in futuro ma detto questo Tommaso noi siamo veramente alla fine esce l'ultima domanda sul fatto cosa ne pensi del format Polleria Italia lo consiglieresti a un tuo amico sì però mi dovete spiegare perché l'avete chiamato Polleria Italia perché cuocere il pollo cioè è bello però sicuramente avrà un'origine l'origine è proprio questa guarda io vengo dalla Sicilia in Sicilia ci sono tanti posti dove puoi andare a comprare il pollo con le patate in barbecue è buonissimo sai è molto prelibato con le spezie sì una volta a settimana d'obbligo la moglie in famiglia obbliga il marito ad andare lì ad andare a comprare il pollo per la famiglia questo sarà cena una volta a settimana quindi il marito quando prende la macchina vai lì e trova e trova questo negozio dove comprare del pollo e la Polleria diventa un agorà un centro d'incontro perché la possibilità di trovare degli amici e parlare di qualsiasi altra cosa lì è altissima quindi qua nasce la nostra metafora che poi si lega al discorso che virtualmente metaforicamente andiamo in giro per il mondo a trovare giovani talenti italiani che possano raccontare e condividere la loro storia tu sei un grandissimo esempio grazie per essere passato da qui grazie a voi e ci vediamo alla seconda stagione per la finale la finale ciao a tutti grazie mille ci sentiremo per un tour ciao 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 a presto ciao 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 Grazie a tutti.